Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao Per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasy e dell'unico anello Il mio tessaro Dopo la sigla di Supernova Collective Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo Sai che dovrai affrontare un drago Ma questa volta sono due E hanno un microfono L'unico anello ha vinto il sondagione di Patreon pari merito con Vesen Quindi abbiamo deciso di parlarne oggi prima di fare un nuovo sondaggio su Patreon Quindi preparatevi che tra poco esce la prossima scelta per l'anno prossimo In pratica Questo è un colpo d'occhio Quindi come per Vesen non abbiamo giocato al gioco E quindi non è una review completa C'è anche da dire che anche se avessimo giocato al gioco L'esperienza e i giochi di ruolo ognuna è il proprio piccolo mondo Però vabbè proviamo a darvi quell'impressione di qualcuno che lo sta sfogliando in fiera E deve decidere se prenderlo o meno È uno strumento in più, una cosa un po' più approfondita di quel livello lì L'unico anello, parliamo della seconda edizione È un gioco creato per la maggior parte da un team italiano Francesco Napitello, Marco Maggi e Michele Garbugio Antonio De Luca, Federica Costantini Luca Soggio, Daniele Sorrentino, Melissa Spandri Giuditta Betti Tra designer, artisti e così via Per Free League Che ringraziamo per averci mandato la copia di review Esiste una versione di questo gioco per la quinta edizione di Dungeons & Dragons Ma noi oggi prenderemo in esame il gioco con il sistema a sé diciamo È ambientato nella terza era della Terra di Mezzo Nel periodo tra l'impresa di Bilbo e la storia di Frodo Quindi è prima dei tre film diciamo canonici del Signore degli Anelli E Sauron quindi è già diventato l'occhio Ma è solo una voce Non si sta ancora muovendo per il potere Ed è ambientata a Deriador Più o meno la zona del primo film Esatto, sì Significa che se giocata questo gioco Non ci sarà Rohan Non ci sarà Gondor Quindi non ci saranno tutte le parti dei film successivi In pratica Il manuale però è unico E include sia la parte per i giocatori Che quella per il lore master Il narratore slash dungeon master di questo gioco Ed è diviso praticamente a metà Ci sono lo stesso numero di pagine per tutti E poi per il narratore o la narratrice È lungo 240 pagine in tutto Diciamo che arriva con delle forti aspettative È un gioco di ruolo basato su Signore degli Anelli Quindi mi sarei aspettato un gioco altamente narrativo Invece così di primo acchito La cosa che ti rimane in testa È che ha tante meccaniche E alcune molto complesse Per quello che mi sarei aspettato E dopo riprenderemo questo discorso Magari nel secondo segmento Vedendo se si dà l'atmosfera tolkeniana Che di solito la gente cerca in questo franchise Passando alle meccaniche La meccanica di base del gioco si struttura in questo modo Ogni personaggio sulla scheda ha tre attributi Che sono forza, cuore e ingegno E che producono tre numeri target Il numero target è praticamente il numero da battere Nel momento in cui si vuole avere successo in una prova Quindi con il tiro di dado Ogni personaggio però ha anche delle abilità Con un livello di competenza associato Poi spiegheremo meglio la scheda Ma per intenderci Oltre alle tre caratteristiche che abbiamo detto Forza, cuore e ingegno Sotto ci sono invece C'è l'elenco delle abilità E appunto ci sono dei rombi da riempire A seconda di quanto si è forti in quell'abilità Intimorire, atletica, allerta, caccia, canzoni, manualità Incoraggiare, viaggio, perspicacia, guarigione, cortesia, battaglia Già che ci sono le dico tutte Convincere, furtività, scrutare, esplorazione, indovinelli, sapienza C'è diciamo una gamma abbastanza ampia Che copre diverse cose Da quelle più sociali A quelle rilevanti per il viaggio Esatto E continuando questa indagine Su se sia meno tolkieniano Questa cosa è una cosa molto tolkieniana Ce ne sono alcune che sono palesemente cose Che hanno senso solo nel mondo di Tolkien Gli indovinelli per esempio In D&D non mi aspetterei Una abilità dedicata Soltanto agli indovinelli Mentre qui ti aspetti Dopo l'Hobbit Quando c'è la gara di indovinelli Tra Bilbo e Smigol E' proprio C'è una parte importante di quella storia E' una parte che tutti si ricordano E quindi c'è un'abilità associata E poi c'è una sezione a parte Per le competenze anche in combattimento Esatto Dove quindi c'è già direttamente Asci, archi, lanci e spade Perciò le armi che esistono Hanno un livello di competenza Quindi al posto che come in D&D Dire sei competente in una cosa Non sei competente in un'altra Qui puoi avere diversi livelli di competenza Secondo dell'ormo Secondo me Non so se è vero Sarebbe da chiedere agli autori Ma il vibe che mi ha dato E che prenda tanta ispirazione Anche dal gioco di Game Workshop Game Workshop è l'azienda Che produce Warhammer Ma anche un gioco del Signore degli Anelli Che a me piaceva tantissimo Da bambino Leggeri manuali Perché aveva dentro tanta lore Del Signore degli Anelli E i poteri erano molto significativi E c'era questa cosa Che era molto semplice Le armi che potevano avere Le miniature Mentre invece Tutti gli altri franchise Di Game Workshop Hanno sempre una marea di modifiche Pistola al plasma Blaster Granate O martelli da guerra E così Loro avevano proprio Asce, lance, spade, scudo E faceva più la differenza Se avevi lo scudo E un'arma a due mani Che altro E se ci pensate Fa molto Signore degli Anelli Cioè non c'è una Diciamo un feticismo delle armi Come in altri fantasy Nel libro originale Immagino ancora meno È una cosa molto più Alla mitologia No L'arco magico E così via Non c'è bisogno Che sia un particolare arco lungo No L'importante è il simbolismo Che ha in quel momento Quindi anche questa è una cosa Che mi piace Semplifica il gioco Rispetto a Dungeons & Dragons Che dove hai le armi da guerra Perché così puoi averne tante Qui non ne hai bisogno Hai le lance Hai le spade Hai le asce E spiegaci come funziona però La meccanica proprio del tiro di dado Ogni prova Richiede di tirare un dado 12 A cui si aggiunge un numero di dadi 6 Pare al livello dell'abilità Su cui state tirando I rombi di cui parlava prima Se hai tre rombi segnati Sono tre dadi 6 Il risultato del dado 12 E del pool di dadi 6 Viene sommato Per superare il numero target Che si sta usando Quindi il target che tu produci Con le tue caratteristiche principali Lo devi battere con il pool di dadi Quindi è anche abbastanza Cioè è abbastanza facile Riuscire nelle prove Sì per me onestamente come giocatrice Sarebbe già problematico Dover sommare ogni volta Tutti questi numeri Però vabbè No vabbè Però è Cioè è un problema sensato Perché È meno accessibile Sicuramente Come gioco Rispetto a un gioco Più immediato Dove hai Solo un modificatore O comunque Solo il tiro di dado Esatto E c'è un problema ulteriore C'è un problema ulteriore Che sui dadi Sì perché la meccanica Viene complicata Da una serie di simboli Nel senso che i dadi Che dovreste usare Sono i dadi originali Del gioco Sia il dado 12 Che i dadi 6 Hanno proprio dei simboli Sopra Sono fatti in un certo modo Poi ovviamente Come in tutti i giochi Che usano questa Questo escamotaggio In realtà si può Usare Un set di dadi normali Facendo attenzione Facendo attenzione Esatto Perché ad esempio Sul dado 12 In realtà La faccia dell'11 Non c'è Ed è sostituita Dall'occhio di Sauron Che vale 0 Esatto Cioè Quindi Non è un fallimento automatico Perché poi comunque Hai i dadi Delle abilità Quindi i vari dadi Sei da sommare Però sul dado 12 Se tu fai 11 Ti esce in realtà 0 Invece Gandalf La runa di Gandalf È al posto del 12 Quindi in quel caso Se fai 12 O la runa di Gandalf Hai un successo automatico Non c'è neanche bisogno Di fare la somma Mentre I dadi 6 Presentano anche Dei simboli elfici Aggiuntivi Cioè Su alcune facce Oltre al numero Che è uscito E anche Dei simboli elfici E poi Vi spieghiamo Cosa servono Ci sono diversi modi Per usarli Però sostanzialmente Sono dei successi in più Come se fossero Degli incrementi Inoltre I dadi 6 Hanno i primi tre numeri Quindi 1, 2, 3 Scritti soltanto Con il bordo E vuoti dentro Esatto Mentre Mentre 4, 5 e 6 Sono scritti e colorati per intero Quest'ultimo punto è legato Alla condizione In cui il vostro personaggio è E anche qui Lo vedremo dopo E odio quando devo scrivere Un colpo d'occhio E dire Lo vedremo dopo Lo vedremo dopo Lo vedremo dopo Ma capita spessissimo Con i giochi di Free League Cioè Ti spiegano le cose A pezzi Io non ce la faccio Non è proprio il mio stile Cioè sono bellissimi i giochi Ma come scritto il manuale Secondo me potrebbe avere Un grosso improvement Sempre Quindi vorrei fermarmi un attimo Su queste cose Anche qui Molto tolkeniano L'interesse Nello Hobbit Lui Bilbo viene incastrato Nell'avventura Perché Gandalf Lo va a trovare Lui dice No no Io sono un Hobbit Per bene Non voglio andare Di qua e di là E Gandalf lascia Una luna sulla porta Che dice C'è uno scassinatore qui E i nani lo trovano per quello E vanno a bussare Perché l'unica casa Che c'ha la scritta O sulla porta In questa lingua segreta Dei ladri Sono una scassinatore Che i nani conoscono Quindi ci sta Come cosa Però dal punto di vista Delle meccaniche del gioco Penso che non abbiamo mai Dovuto usare una parte Del colpo d'occhio Per spiegare Queste robe E non abbiamo ancora finito Quindi boh Mi sembra una grossa complicazione Ma quindi Se il successo Viene determinato Dalle somme dei dadi Perché ci sono Sti simboli elfici Come diceva Giada Sono il grado Del successo Cioè Se ho successo Riesco a fare Quello che voglio Ma a seconda Dei simboli elfici Che ho Posso avere successi Aggiuntivi E il gioco Per semplificarci Ancora di più le cose Non potete vedere Le mie dita Penso che L'ironia si senta Ok Presenta questo dettaglio In due modi diversi Cioè ci sono due versioni Diverse di questa cosa Ma tanto noi oggi Vi consigliamo Di usare il secondo E prendiamo in esame Soltanto quello Nel secondo modo Praticamente I simboli elfici Sui dadi Sei sono Una moneta di gioco Cioè sono una risorsa Che potete spendere Per aumentare il vostro successo Quindi per portare Degli incrementi al successo Ad esempio Un simbolo elfico Potrebbe permettervi Di annullare il fallimento Di un vostro compagno Sì quindi tu dici proprio Ok io ho tot simboli elfici Di quei tre Uno lo uso Per annullare il tuo fallimento Così nella prova di gruppo Abbiamo un successo in più Quindi più o meno La meccanica di gioco Spero sia chiara Ma a questo punto Vi chiederete Che tipo di eroi Potete creare Che tipo di personaggi Potete giocare Nell'unico anello In realtà è abbastanza Scontata la risposta Siete una compagnia di eroi Così come la compagnia Dell'anello Ognuno di voi combatte Per le forze del bene Anche se può essere Tentato dall'ombra E questa è proprio Tra l'altro Una meccanica Che possiamo poi Approfondire Esatto La scheda che Descrive Tutte queste cose È abbastanza semplice È una singola pagina E contiene Tanti indicatori diversi Che però secondo me Nel complesso Sono ben individuabili Tra di loro Anche se a mio parere Utilizza i rombi Per troppe cose Anche qui Molto bello Molto estetica Da Porta delle Miniere Di Moria Però se avesse usato Forme diverse Per indicare cose Che di fatto Sono diverse Sarebbe stato Un po' più leggibile Cioè a volte il rombo Lo devi colorare Per indicare Che quell'abilità La hai A volte indica Un livello Quindi devi colorare Più rombi A volte ci devi mettere Dentro numeri Avrei preferito A livello di UI Che interazioni Con l'utente Diverse Avessero forme diverse Per dire Abbiamo parlato Delle prime tre caratteristiche Che è forza Cuore E ingegno Ma poi dopo Ci sono sul lato destro Della scheda Tutta un'altra serie Di punteggi Che sono invece risorse Le caratteristiche principali Tu non le consumi Il numero rimane quello E puoi alzarle Ad abbassare nel corso del gioco Quando avanzi di livello Mentre invece I punti avventure I punti abilità Il valore della compagnia La resistenza attuale La speranza attuale Così Sono tutti risorse Che tu spendi E sono tutte Gli stessi Rombi Cioè le caratteristiche In una decorazione Cine in più Però di fatto Sono tutti rombi Lì accanto Però comunque Beh Io non so Tu cosa ne pensi Della scheda Però io l'apprezzo È comunque una pagina sola In un orizzontale Esatto Io apprezzo molto Il fatto che sia in orizzontale E che sia comunque Ben suddivisa Cioè Nella parte più visibile Più ampia Più centrale Comunque hai in alto Tutte le varie informazioncine No? Che puoi mettere Quindi qual è la cultura Dell'eroe Il vantaggio culturale L'età E così via E ovviamente Vabbè Il nome Sulla targhetta in alto Poi appunto Hai in grande Le tre caratteristiche principali Con il loro grado Con la caratteristica Che ne deriva Perché ad esempio Dalla caratteristica di forza Deriva Da resistenza Da cuore Deriva speranza Da ingegno Deriva difesa Che sono delle sorti Cioè sono dei numeri Che sono Funzionano un po' come Tiri salvezza in D&D Per intenderci Sì sì Generano E anche qui Non sempre Però la resistenza È più tipo una risorsa Però funzionano anche Quindi hanno un po' di ruoli I diversi Però è molto paragonabile Poi appunto Poi appunto hai tutte le abilità Che accumuli Però mi sembra Però mi sembra meglio E diciamo che C'è tutta una lore Legata attorno Che è molto figa E ti dà Tutta una serie Di cose Tra cui lo standard Da cui vivi Che è Prospero Perché appunto arrivando Da una certa zona Avendo poi Il controllo Delle Diciamo Del tesoro di Erebor Del tesoro del drago di Erebor Sono particolarmente ricchi Ma ti danno anche Il set Di attributi Di caratteristiche principali Quindi abbiamo detto Forza Cuore E ingegno Che puoi scegliere Quindi ce ne sono sei diversi Di combinazioni Può essere per esempio 725 Per forza Cuore Ingegno Oppure 734 Quindi ti dà È vero che è deterministico Però ti dà più l'idea Che in quella cultura Vengono Viene Inneggiato Viene elevata La forza E quindi la forza È sempre più alta Delle altre Però per esempio Anche l'ingegno Ok Mentre di meno Il cuore Altre culture invece Hanno una combinazione Diversa Poi la cultura Ti determina anche Le diciamo Caratteristiche derivate Come la resistenza E la speranza Quindi qui c'è scritto Che hai Tu hai forza Più 22 Per la resistenza Sei molto resistente E così via E dopo ti dà Anche Le abilità Quindi ti dice Quale scegliere Ti dice Il diciamo Il ranking Di base di tutte E poi ti dà Alcune che sono Favorite In cui hai dei vantaggi Quando le usi No? Un po' come se fossi Competente Ti dice anche Con che armi Potresti essere Competente Quindi c'è È un bel pacchetto Ti dà i nomi È un bel pacchetto Di cose Che definisce un sacco Il tuo personaggio Se continuassimo A paragonarlo A Dungeons & Dragons È più simile A quello che ci aspettiamo Da una classe Perché ti dà anche Abilità Ti dà anche Un sacco di cose Invece qui è tutto Spostato nella cultura I miei preferiti Invece sono Gli Hobbit Della Contea Ovviamente Ovvio Vado sul banale Allora in questo caso Hanno ad esempio Come attributi Come set Diciamo Di attributi Ho notato che hanno In ogni combinazione Quello più alto È cuore Esatto E poi C'è una cosa Vabbè Interessante Che effettivamente Ha senso Cioè loro non possono Utilizzare armi Grandi Perché sono Piccini E quindi non possono Usare né uno scudo Grande Né ad esempio Le spade lunghe Possono usare Ad esempio La spada corta La lancia corta La daga L'ascia E così via E anche l'arco lungo Non è contemplato Ovviamente Sì E te l'abilità Preferita Che puoi scegliere È furtività Per esempio E cortesia Che è perfetto Hobbit No Proprio quello Che ti aspetteresti E poi Hanno come Benedizione culturale L'Hobbit Sense Praticamente Hanno I tiri favoriti Su saggezza E poi hanno Un dado In più Su I test Contro L'ombra Per resistere Agli effetti Dell'ombra Appunto Particolarmente Legato a grid Com'è che si dice In italiano? Quando vuoi le cose Non mi viene la parola Comunque Come Frodo Come Frodo è resistente Alla tentazione Dell'anello Esatto La tentazione Materiale dell'anello Anche gli Hobbit Hanno un leggero vantaggio Verso la tentazione Delle cose In pratica E poi Nelle Nelle varie abilità Ad esempio Quelle più Alte Sono appunto Stealth E gli indovinelli Riddle E poi Cortesia E canzoni Anche Sono abbastanza Messi bene La seconda scelta Che ti fa fare In manuale La seconda scelta Importante Diciamo È la tua chiamata Queste sarebbero Le classi In altri giochi di ruolo Che ne so Il capitano Il mercante E così via Ma sono molto Depotenziate Dalla cultura Ovviamente Perché abbiamo detto Che faccio già scegliere Tutte le caratteristiche Le abilità fondamentali Permettono però Di aggiungere Un'abilità speciale Ti aggiungono Altre abilità Su cui si ha vantaggio Su cui si è favoriti E soprattutto Danno Un cammino Dell'ombra Che è il difetto Che il vostro personaggio Nasconde in se stesso E che potrebbe farlo passare Al lato oscuro Giada Mentre tu cerchi La tua preferita Io vorrei fare Questo discorso Tolkien Aveva una visione Del mondo Che stava cadendo Da Lui vedeva L'Inghilterra pastorale No? Come Un Un luogo idilliaco Che stava venendo Mangiato dal progresso E dalla rivoluzione Industriale E sentiva proprio Una nostalgia Verso questo Stato di natura E si vede anche Proprio nel libro Come quando sono tranquilli Sono tutti Che mangiano torte Cantano canzoni Suonano tra amici Fanno feste Tutti assieme E il potere Che corrompe Invece ti porta Verso le grandi città Ti porta a Gondor Ti porta a Mordor Ti porta alle forge Di Isengard No? Questo Sembra completamente Slegato Dal fatto Che il Collings Sia Il Quello che ti dà Il cammino Dell'ombra Ma invece secondo me C'è un nesso fortissimo Che è molto intelligente Forse è la cosa più Tolkieniana Di questo gioco Cioè l'idea che Quello che sei costretto A fare Che ti porta lontano Dalla tua comunità Che ti porta fuori Dalle tue radici È quello che ti avvicina Alla perdizione Se sei un messaggero Se sei un capitano Se sei un avventuriero E sei costretto A interagire con il male Sei costretto A interagire con il denaro Sei costretto A interagire con i vizi E quindi ti avvicina A Mordor Ti avvicina all'ombra Tu hai scelto La tua classe La tua chiamata preferita Sì io ne ho una Se vuoi Anch'io Vai Il mio è lo scolaro Ok No il mio è il campione Ok Sostanzialmente lo scolaro Vabbè È alla ricerca Di tutti quelli Che sono Cioè della conoscenza E anche proprio Dei segreti del mondo Come skill favorite Ha manualità Lore Che non so come viene tradotto Nella scheda in italiano E Riddle Quindi Indovinelli E il suo shadow path Quindi Cioè la sua Cioè quello che potrebbe tentarlo Effettivamente Sono i segreti Sì Cioè tutto quello che riguarda Tutto quello che riguarda Quello che puoi scoprire Esatto È un po' Diciamo Saruman Come archetipo Gandalf Gandalf è il lato positivo Saruman è il lato negativo Sì a me piaceva Cioè mi piace l'idea Di combinarlo a un Hobbit In realtà come cosa Sì perché non sono mai così Sono curioso Io lo stavo unendo Alla scelta di prima Rispetto alla cultura Quindi mi immagino Questo Hobbit Che in realtà Non gli basta Quello che ha Nel suo villaggio Appunto Come si dice Rurale Quindi tutta quella gioia Cioè vede gli altri Come si stanno accontentando Io voglio conoscere di più Voglio sapere di più E quindi parte Per questo E però quello è anche Quello che può effettivamente Tentarlo e portarlo Sulla strada dell'ombra Io nel frattempo Ho fatto l'errore Di guardare meglio Le chiamate E sono indeciso Tra il capitano E il campione Vabbè dai Digli tutti e due No non sto a descriverli tutti Ma volevo portare l'archetipo A me piace Nel Signore degli Anelli I miei preferiti invece Sono Aragorn e Boromir Che sono due facce Della stessa medaglia Aragorn è colui Che ha il diritto di nascita E non vuole esercitarlo E quindi è l'inattività Boromir invece Quello che è salito Democraticamente In un modo o nell'altro Poi c'è da vedere quanto Ma se l'ha conquistato Essendo continuamente Ad Osgiliath Essendo continuamente Sulla linea di battaglia Combattendo E quindi mi piace Che per esempio Capitano Ha come cammino dell'ombra L'attrattiva del potere Quindi quando personaggi Sono dati posizioni Di autorità Per il rango La linea Genealogica O lo status Come vengono visti Dagli altri Possono Fraintendere Il loro Aver raggiunto Il potere Il loro miglioramento Il loro status Come buono per tutti E invece non è così Ed è molto poetico Anche come viene descritto Il capitano proprio Di base Che dice Quando il mondo È sull'orlo della rovina È il compito Di tutti gli individui Che hanno valore Di alzarsi E prendere il comando Qualsiasi sia il rischio Hai scelto di mettere Il tuo giudizio Al servizio degli altri Per guidarli In questa oro buia Ma tu non vuoi Che gli altri Seguano il tuo comando Per paura Obedienza Tu vuoi che ti seguano Perché si fidano di loro Che è un po' Tutto il percorso di Aragorn Dovendosi prendere cura Di questi Nel film Perché so che il libro È molto più monodimensionale In realtà Ma dovendosi prendere cura Di questi Hobbit Nel film Impara come governare E quindi passa Dall'Hobbit Al fosso di Elm E poi a Gondor È molto figo Mi piacerebbe Cioè piacerebbe molto Poi giocare un nano così Perché i nani Che ci sono Nel Thorin Scudo di Quercia È già un leader Quando appare Nell'Hobbit Per esempio Quindi non c'è una figura Di un nano Al comando Almeno Per quello che conosco io Magari facciamo Un po' più rapidamente Questa parte Però ogni personaggio Inizia poi Con dei punti esperienza Che può spendere Per modificare Il proprio personaggio Quindi ha una modifica Individuale E che rappresenta La vita precedente All'avventuriero Molto più interessante È il background Dal punto di vista narrativo Perché Vengo costretto In qualche modo Col fatto che sono punti Che mi arrivano Dalla storia precedente A motivare Come mai Sono così bravo Con l'ascia Perché ho deciso Di usare Quei punti esperienza Aggiuntivi Per comprare L'abilità Con l'ascia Ti costruisce Di fatto Il background Senza aver bisogno Di uno specifico Altre meccaniche Interessanti Le abbiamo citate Prima quando parlavamo Della scheda Sono la resistenza E la speranza Sono valori Che vengono calcolati A partire Dagli attributi principali E che rappresentano Quanto ancora Possono sopportare I vostri eroi La resistenza Indica proprio La sopportazione fisica Quindi Quando ad esempio Vengono feriti In combattimento Non ci sono punti ferita Ma cala la resistenza E questo comporta Una serie di cose Tra cui anche Ad esempio Quanto peso Possono fortare Qualcosa del genere Direttamente collegato Di equipaggiamento E la speranza Invece Rappresenta La sopportazione Spirituale La creazione Del personaggio Una volta Compilata Tutta questa parte Prosegue con La scelta Dell'equipaggiamento E con varie Ricompense Iniziali Cioè dei bonus O degli oggetti magici Quello che ci interessa Però di più È che ha anche una parte Per la creazione Della compagnia Di eroi Che è abbastanza tematica Direi Per un gioco del genere Qui Altro che parti Di D&D Mi viene da dire Cioè quasi proprio La compagnia Dell'anello Voi siete Voi siete gli eroi Del bene Contro il male Quindi insieme Al resto del tavolo Si sceglie Chi è il patrono Della propria compagnia Dove si trova Il proprio rifugio sicuro E queste scelte Determinano Il tipo di avventure Che poi si affronteranno E anche le zone Del mondo Che si esploreranno E secondo noi Questa Tutta questa parte Di compilazione È interessante Per due motivi Prima di tutto Permette di allineare Tutti i giocatori Al tavolo Cioè quello Che consigliamo di fare In una sessione zero Di un qualsiasi altro gioco Però è bello che è legato al gioco Dici se siamo una compagnia Di nani di Durin Inizieremo da Erebor E la seconda cosa interessante È che secondo noi Questa Meccanica Fa anche sì Che se tutti sono allineati E se si decide Quindi quali sono I luoghi Che si esploreranno Almeno per i primi livelli Il gioco viene Limitato a una zona A una regione del mondo Abbastanza ristretta Probabilmente anche per evitare Che tutti cerchino Di emulare Il viaggio di Frodo O di Bilbo Che parte subito Verso zone più lontane Esatto Ci sono tutta una serie Di meccaniche Legate al luogo sicuro Per esempio Tu la fase di gioco Della compagnia In cui Il downtime In cui puoi fare cose Salire di livello Dei fare nel tuo luogo sicuro Si possono scegliere Nuovi luoghi sicuri Però sei incentivato I primi livelli A tornare a quello Quindi ti impedisce Proprio di partire Per il viaggio E non tornare più Che è tutta una serie Abbiamo già parlato Del perché ha senso Fare una campagna A brevi livelli Cercate i primi episodi Di campagna step by step Del nostro podcast Per saperne di più Se lo parliamo The Walking Dead Comunque un po' tradizionale Cioè non è così Esteso A livello di meccaniche Il luogo sicuro Come Eleven Di The Walking Dead Però è interessante A livello di ciclo Di gioco L'unico anello Presenta due fasi Distinte Che hanno meccaniche Tempi E stili di gioco Differenti Un po' come Wilder Fist C'è la fase Dell'avventura Che è la fase Di gioco normale Per chi viene Da Dungeons & Dragons E quindi si descrive Scena per scena Gli eroi reagiscono A quello che descrive Il lore master Perché si chiama Lore master In questo gioco E poi invece c'è La fase della compagnia Che si gioca nel tempo libero Si e si descrive Quello che accade in generale Ed è il lore master Che reagisce ai giocatori Quindi c'è proprio Un'inversione dei ruoli Giada mi faceva notare Che si è similato Anche nel downtown Di D&D I giocatori arrivano Con una lista di cose da fare Però qui è proprio scritto Capito? C'è proprio Ok e non ci ho mai fatto caso Quanto sia esplicitato Nel manuale del Dungeon Master Però sicuramente poi dipende Io vabbè Sono una grande sostenitrice Del fatto che appunto Ogni gioco In realtà dipenda Dallo stile di gioco Del master E del party stesso Penso semplicemente Che sia fattibile Che qualcuno abbia già Sperimentato questa cosa Anche in altri giochi Che siano D&D O che siano qualsiasi altra cosa Critical role per esempio Lo fa Cioè quando è downtime Master gli dice La giornata è vostra E loro fanno tutti quello che vogliono Sì Cioè anche noi abbiamo Non funziona con tutti i party Mentre qui È vero Il gioco deve funzionare così È vero Ad esempio a me viene in mente Con i corvi La campagna dei corvi della notte Lo facevamo spessissimo Cioè Alla fine di un'avventura Ci dicevi Ok siete tornati in città C'è il vostro luogo sicuro Ditemi voi cosa volete fare Passavamo magari Un'intera sessione di downtime Anche soltanto a interagire Tra personaggi O a cercare degli oggetti Da vendere all'asta E cose così O a comprare oggetti all'asta Invece ad esempio Con il party Che abbiamo adesso Per la campagna di Dragonlance Quando hai provato A lasciarci liberi Per il downtime Non succedeva niente No esatto Cioè nessuno aveva ancora In mente niente Magari perché Non avevamo ancora Ingranato come party O magari perché Non era il party giusto Per lasciare Quella libertà narrativa Qui invece è costruito All'interno Quindi devi trovare Un modo per farlo funzionare Diciamo Secondo me Questa è una di quelle cose Che devi trovare Un modo di far funzionare Cioè È fondamentale Sia per il gioco Che per l'atmosfera Da signore degli anelli Che ci sia gentilità Dei personaggi Però il problema È che dall'altro lato Poi è una storia Di fantasy classico Dove i personaggi Reagiscono alle minacce Reagiscono ai misteri Reagiscono al male Quindi devi avere un momento In cui possono decidere Cosa fare Possono essere allegri Contenti Quindi deve funzionare Ci sto Vi diremo Che cosa apprezziamo di più Che cosa apprezziamo di meno Di questo gioco Nel secondo incontro di oggi Ma prima Un riposo breve per noi Offerto dal nostro sponsor Ci sono un sacco di cose Di cui vorremmo parlare Ma che non abbiamo modo Di portare sul nostro podcast Principale Due Draghi al microfono Quindi abbiamo iniziato A registrarle Senza editing Senza filtri Senza preoccuparci anche Di quali sono le varie tematiche E vogliamo portarle In Due Draghi Unlimited Il podcast dedicato Soltanto ai nostri Patreon Se volete ascoltarlo Andate su Patreon.com Slash Due Draghi Plus Patreon.com Slash Due Draghi Plus E iscrivetevi A uno dei due abbonamenti Sono praticamente abbonamenti Che danno le stesse Identiche ricompense Perché vogliamo Che vi sentiate a vostro agio A seconda Della vostra disponibilità economica Quindi se volete sostenerci E se volete ascoltare Questi episodi Unlimited Andate su Patreon.com Slash Due Draghi Plus Prima di fare Cosa ci piace Cosa non ci piace Secondo te È tolkieniano Per quello che abbiamo detto Perché comunque Le cose principali Ne abbiamo parlato Ma Boh Secondo me sì Cioè Però Allora Io sono molto meno esperta di te Di Tolkien E io sono molto meno esperto Di un esperto di Tolkien Vabbè Ok No Nessuno dei due È esperto di Tolkien Però l'atmosfera è famosì Cioè ormai è Cioè a me comunque Dà quelle vibes Quando l'ho letto E quando ho scritto Cioè avevo la sensazione opposta Che fosse un po' troppo Meccanico Un po' troppo poco narrativo Adesso parlandone con te Mi sembra molto più Allora diciamo che a me Non fa impazzire La meccanica dei dadi Prima di tutto Perché Ma di questo ne parlerò Poi anche in Episodi futuri Ad hoc Ad hoc Non mi fa impazzire La meccanica dei dadi Quando il dado Deve superare La caratteristica Che ho sulla scheda E quindi questo È un mio discorso a parte Detto questo Trovo carino In realtà Che i dadi Abbiano Delle particolarità Cioè Almeno In questo caso Lo trovo sensato Nel senso che Ci sono Giochi Dove hai Il set di dadi Che potresti tranquillamente Usare un set di dadi Normale Ma hanno I simboli particolari E quindi Ti spingono a comprare quelli In questo caso Sono delle robe aggiuntive Cioè Il dado 12 Volendo potresti anche dire Uso quello Perché ho Cioè tanto Basta che dico 11 è Sauron E 12 è Gandalf E ok Però i dadi 6 Che invece hanno Quelle rune in più In realtà Boh Cioè non lo so Penso che comunque Valga la pena Avere il set Apposta Per giocarlo In quel modo E penso che sia sicuramente Una cosa più Macchinosa Rispetto a Un semplice Tiro il dado E ho il dado Associato a una caratteristica Ed è quello e basta Senza neanche modificatori Addirittura Che è la roba Che sto usando di più io E che quindi Mi sembra molto easy Da utilizzare Però penso anche Che come per tutti i giochi Dopo che fai tre sessioni Ormai ti sei abituato Cioè io mi ci vedo A giocare una cosa Tante volte Che Devi fare in fretta No devo dire Che mi ci vedo A giocare una cosa del genere Mi piacciono molto Come luogo sicuro Scegli un luogo vicino Alla contea Comunque hai sempre Modo di tornare lì Se vogliamo fare un'analisi Onesta verso di loro Sai che il tuo target È Dungeons and Dragons Per un gioco del genere E quindi fai una cosa Simile a Dungeons and Dragons Ma che ti dia abbastanza vibe Da essere giustificato E The One Ring L'unico anello È questo Cioè E infatti poi è diventata Cioè loro stessi Hanno creato come diciamo Tre terze edizioni Tra virgolette Una mod Dungeons and Dragons Portandosi dentro Le cose da questo manuale Quindi c'è poco da dire Cioè l'obiettivo era quello Se vogliamo vederle In un vuoto E fare un'analisi Solo così Di come sembra Avrei preferito Un gioco narrativo E che non ti stesse A mettere le caratteristiche Con i rombini I numeri E le resistenze Di qua e di là Perché boh Mi sembra proprio diverso Dal tipo di narrazione Che Che c'è in Tolkien Che è preoccupato ai temi Infatti sono più belle le cose Che sono legate ai temi Al Collins Che è anche Il cammino dell'ombra Eh sì Tutte quelle robe lì Ti danno idea Di come lo devi giocare Per sentire il tema Della corruzione Della morale Che ti piace o no Perché tipo io Per un sacco di tempo Non sono stato d'accordo Con Tolkien Per questo Perché cioè Sembrava un mondo morale Molto tradizionale Molto Però comunque Ci sta giocarlo E non so se Non so se Riesce ad avere La stessa esperienza Però Non è male Tutto sommato Dai se la cava Cosa non mi è piaciuto Veramente del manuale È Il concilio E gli incontri sociali Sono un tipo di incontri E tipo un tipo di combattimento Mettiamolo così Dove è un meeting formale Immaginiamoci La compagnia Che si raduna Per capire Cosa farne dell'anello Nel primo film Dove appunto Gli I rischi sono alti Quindi non è Stiamo parlando in taverna E dobbiamo convincere il taverniere Ma stiamo parlando con Elrond E dobbiamo convincere A darci la mappa lunare A leggerci la mappa lunare Ok Poi però diventa Detto questo Si scelgono all'inizio La resistenza dell'avversario E il tempo Che ci devi mettere Per convincerlo Per avere un limite E non continuare a chiederglielo Per mesi Ma poi sono prove Di abilità comunissime Non c'è niente di Non c'è niente di Non è una meccanica particolare Non è un'altra soluzione di gioco Semplicemente ti dice Guarda che puoi gestire Gli incontri complessi così Quello che mi è piaciuto invece È l'occhio di Mordor Non entrerai in tutti i dettagli Scoprirete la meccanica Se vorrete leggere questo gioco Ma in pratica ci sono Una serie di fattori Che influenzano L'attenzione di Mordor E di Sauron Verso di te Il faro che cerca Frodo Quindi se usi la magia Per esempio Se hai un elfo Di un certo Cultura Hai più attenzione Perché sono i nemici storici Di Sauron E così via È nella sezione Del lore master E non è Non è chiarissimo Almeno per me Non è stato chiarissimo Leggendo Su quanto questa meccanica Sia visibile Ai giocatori Cioè se è un indicatore Che gli devo mostrare o meno Io farei Dimostrarglielo Cioè così hai un modo Per segnare Il ritmo dell'avventura E Sauron Che si avvicina sempre di più Tra l'altro Quando superi una certa soglia Parte proprio la caccia Cioè vengono mandati I signori dei Nazgul A prenderti O qualcun altro Quindi puoi anche fare Le scene tipiche del film Dove si vede Minas Morgul Che apre le sue porte I cavalieri Che galoppano fuori Per venirti a cercare Allora Secondo me invece Una cosa Molto interessante È tutta la parte Delle meccaniche di viaggio Paradossalmente Sì ma perché Come abbiamo detto Il gioco Forse per come è fatto Ti spinge almeno Per i primi livelli A rimanere In una zona tranquilla Però poi Ti dice anche Cioè c'è tutta una sezione Sui viaggi più lunghi Quindi comunque Sono in qualche modo Regolati E una cosa molto carina È che hai Una scheda proprio Per il viaggio Con queste Con gli esagoni Praticamente Su cui puoi Disegnarti la mappetta Perché è una roba Che Emilio sta facendo Tra l'altro anche Per storie di vapore Voi non lo sapete Perché non potete vederlo Ma È molto carino Perché man mano Che esploriamo Lui ci mostra In quegli esagoni Che cosa abbiamo trovato E ti dà proprio L'idea Dell'esplorazione A me è una cosa Che sta piacendo molto E qui è un po' La stessa cosa Però addirittura In questo caso C'è il master Il lore master Può disegnare prima Quelli che sono I vari ambienti Quindi una mappa Lunga Pian piano La dividi in vari segmenti E ne risolvi Uno alla volta Se hai qualcuno Bravo a disegnare Nel party Viene una figata La scheda Sembra essere Un diario di viaggio Con tutti gli eventi Sì hai proprio Il log In cui metti L'anno La stagione I poni Da dove si parte Eccetera eccetera La compagnia Quindi il nome di tutti Anche Che ruolo hanno Infatti C'è quindi La guida Il cacciatore Lo scout E così via E anche Quanto sono affaticati Dal viaggio È molto carina Secondo me Cioè questa è la cosa Che mi ha colpito di più Delle meccaniche di viaggio Sì sì è bellissima Io l'applicherei ad esempio Anche in D&D Per tutte quelle parti Che hanno magari Appunto un viaggio lungo Da fare Che non vogliamo stare a raccontare Volta per volta Però è interessante Se attraverso dei tiri Si vanno a risolvere Dei momenti Come si dice Dei momenti clou Del viaggio E man mano ci si segna Però ad esempio Ok non siete riusciti Ad accendere il fuoco Quindi siete più affaticati Lo segno con delle crocette Si può giocare anche a distanza Sì in crono Tra una sessione e l'altra Così quando poi Inizia la sessione successiva Sei arrivato nel posto In cui volevi arrivare Sarebbe bello avere l'app Con la mappa che si muove Tu puoi disegnarla E il diario che scorre E ognuno può scriverci All'interno Figo E appunto anche in questo caso Come suggerisce di fare Praticamente So capito bene Una sorta di montaggio Anche qui Nel senso che L'idea è Prima di tutto Si sceglie qual è la rotta Tra virgolette Cioè qual è la marcia Che verrà seguita E si traccia Effettivamente Pian piano si segnano Le varie cose Sulla scheda del viaggio E poi si tira E poi si tira Su viaggio Perché effettivamente Viaggio abbiamo visto Che è una delle abilità E si tira Nel momento in cui Il lore master Descrive Un evento Che ha luogo In un posto specifico Quindi Cioè Quando c'è un posto Che lo Lo ispira Può dire Ok State camminando Da giorni Arrivate qui E succede questa cosa Fanno un tiro su viaggio Per superare Quello che è Diciamo L'evento Che accade Ovviamente Possono esserci Poi Lo spiega Nelle meccaniche Più sotto Anche Diversi tipi di eventi No Quindi ti dà Anche una tabella Con Diverse Diverse opzioni Tra l'altro Ci volevo Cioè Anche se i primi livelli Ha senso Che tenta Tenti di tenerti In un luogo Per farti radicare Nel mondo Farti conoscere Tra di voi E così via Però ha anche senso Che abbia un sistema Per viaggiare Tolkien era ossessionato Dalle mappe Per esempio Cioè Le ha messi Nell'edizione originale Dei suoi libri E lui che ha creato L'ossessione Delle mappe Per il fantasy E quindi Ci doveva essere Per forza E a te sembra carino Cioè Ti dà proprio l'idea Di un gruppo Di una compagnia di amici Che sta viaggiando assieme Che deve segnarsi Quanti pony ha Dove sono Quanto sono stanchi Mi piace Ma sta roba dei pony Mi prende Cioè Nello Hobbit Per esempio I pony hanno una rilevanza Notevole Nella storia E cioè Mi ricordo la scena In cui sono costretti Ad abbandonarli Perché sono arrivati Quindi sono costretti A lasciarli All'ultima città Che incontrano E Bilbo è triste Perché ha abbandonato i pony Che li hanno accompagnati Perfino a quella parte Del viaggio Quindi È bella come roba Sì e poi Cioè secondo me Va a Non so mai come dire Va a simulare bene Ma secondo me Simulare non è Il termine corretto Appunto L'idea di fare Un montaggio Cioè di non Come dicevo prima Di non Prendersi Intere sessioni Per narrare Ogni singola parte Del viaggio Anche quello molto Tolkiniano Cioè succedono cose Cioè tipo lui Tra l'altro Me l'avevano portato Come esempio Di come Fare listi narrative Mi ricordo che c'è tipo Descrive l'incontro Con i troll Nell'Hobbit E poi in cinque frasi Sono arrivati a forra spaccata Gran burrone E ci sta Perché cioè ovviamente In un viaggio Non tutto sarà interessante Quindi è inutile che ogni giorno Cioè che in ogni sessione Ci diciamo Ok camminate E ok dovete accendere il fuoco Dovete andare a caccia Non è tecnicamente La stessa tecnica narrativa Montaggio ed ellissi Sono due robe diverse Però vabbè Nel gioco da tavolo È un po' più difficile Fare un ellissi vera e propria Quindi ci sta Che usino il montaggio E l'altra meccanica Boh non lo so È carina Non è molto tematica Perché è un po' troppo Faccio crescere un altro avventuriero Che non lo vedo proprio Nelle corde di Tolkien Però è come effettivamente Succede nei suoi libri Sì Ma tu sai com'è stata la storia Di Befrodo? Sì Che l'Hobbit Ha fatto talmente Tanto successo Che gli hanno chiesto Un seguito Lui non aveva mai pensato Il Signore degli Anelli Ah ok Tra l'altro L'Hobbit Una delle edizioni È stata modificata Per permettere Del Signore degli Anelli O modificata postuma Per far quadrare le cose Quindi non so se Lo chiamerei un tema Quello dell'eredità Però di sicuro Alla fine ci è finito Soprattutto nei film Col fatto che È come se Frodo Concludesse il libro di Bilbo Di sicuro l'hanno ripreso Quindi anche questo Ti dà la stessa sensazione Vabbè dai Tutto sommato è un bel gioco Cioè se vi piace Il Signore degli Anelli Secondo me vale la pena Giocare questo Piuttosto che Giocare la Superate lo sforzo Di imparare un nuovo gioco Però vi dà Qualcosina in più Rispetto a giocare La versione per la quinta edizione Sì No io lo proverai volentieri In realtà L'unica cosa Che mi blocca È che secondo me È adatto a campagne lunghe Eh sì Cioè di sicuro Non a una one shot Ma No Però una campagna breve Perché comunque Cioè hai tutto Hai tutto lo sforzo iniziale No? Bello ovviamente Però È comunque impegnativo Di appunto Creare una compagnia Allineare i personaggi Cioè C'è tanto da costruire È sul luogo È dura Farle in uno One shot C'è tanto da costruire Riusciremo sicuramente a portarlo su Sidecast Perché appunto sarebbe una campagna Cioè su Sidecast Cioè su Sidecast riusciremo a portare le cose di cui faremo il colpo d'occhio Ma che è fattibile risolvere in cinque sessioni Sì Altrimenti diventa troppo lungo Oppure in futuro Quando Sidecast diventerà il nostro podcast principale Ma perché Ma perché? E faremo campagne continuamente Va bene Non ho scritto la conclusione Quindi improvvisiamola Questo è tutto per oggi Se volete continuare la discussione Di sicuro ne staremo parlando su Discord Due Draghi Club Trovate il link in descrizione Se volete sostenerci in modo più semplice Sempre condividere il podcast Farlo sapere in giro Ma potete anche votare il podcast su Spotify Dandoci cinque stelle Mortacci vostre Non datene quattro Che mi rovinano le statistiche Abbiamo quattro punto otto Quattro punto nove C'è qualcuno che ha messo quattro Tutti gli altri stanno mettendo cinque Vi vedo Vabbè ma devono essere onesti No Ragazzi tra quattro e cinque Non c'è nessuna differenza È soltanto una roba per l'algoritmo Che sennò non sa come scegliere Mettete cinque Non fate gne 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 Però c'è Ve lo metto anch'io sempre quattro Perché si può sempre migliorare qualcosa Non fatelo Non si può migliorare niente È perfetto questo podcast È perfettissimo Oppure se ne avete la disponibilità E non vi sentite pressati C'è anche il nostro Patreon Andate a scoprirlo Non è un obbligo ovviamente Però ci fa piacere Se ci aiutate a tenere Le luci accese I microfoni caldi Come si vuol dire Per questo lunedì è tutto Ci sentiamo il prossimo Perché Il lunedì Non è mai stato Così avventuroso Tra l'altro già dobbiamo cambiare L'area di Dragon Bane Ho visto le schede Sono fighissime Sono bellissime Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti